Il sistema A2000 con cappuccio elastico in plastica è la soluzione migliore per risolvere ogni problema di ostruzione degli scarichi. Gli accessori A2000 sono adatti per ogni tipo di scarico. Vengono realizzati in materiale repellente allo sporco e che non assorbono liquidi. Funziona così. Togliere il cappuccio, mettere lo sturatubi sull'adattatore, tirare la maniglia della prolunga verso l'alto e l'A2000 è pronto per l'uso. Il lavello è otturato, lo scarico a pavimento non fa defluire l'acqua, la vasca da bagno non si svuota e l'acqua esce dal piatto della doccia. Finora l'unica soluzione era quella di smontare e pulire i tubi di scarico. Oppure usare sostanze chimiche pericolose e dannose per l'ambiente e le tubature. D'ora in avanti non ci sarà più nessun problema. Con la potenza della sola pressione dell'anidride carbonica compressa, è possibile liberare lo scarico in pochi secondi. Posizionare lo sturatubi A2000 verticalmente sull'apertura. Chiudere il piccolo foro sotto il rubinetto, azionare brevemente l'A2000 e l'acqua riinizia a defluire. Vi mostriamo l'efficacia dell'A2000 con un esempio pratico. Il capuccio elastico dell'A2000 copre perfettamente lo scarico. Premendo sullo sturatubi viene rilasciata una scarica di anidride carbonica che libera le tubature da tutte le incrostazioni. Capelli e resti di sapone tendono a dostruire gli scarichi. In questi casi basta usare l'adattatore. Posizionare l'A2000 verticalmente ed azionarlo. Perfetto! Lo scarico sarà nuovamente libero. Si può usare anche per il bidet. Chiudere il piccolo foro sotto il rubinetto, azionare brevemente l'A2000. Fatto! Se lo scarico del WC è ostruito, basta usare l'A2000. Posizionare l'A2000 sull'adattatore. Azionare con maniglia di prolunga e lo scarico è libero. Cosa fare se lo scarico del WC, della vasca o della doccia sono ustruiti? Nessun problema con l'A2000. Perché lo sturatubi riesce a liberare anche gli scarichi con le aperture grandi. Cosa fare se lo scarico del WC.